Sono con Piero Battaglia alla mia sinistra e Anna Chiara D'Agostino alla mia destra. Perché siamo qua? E la domanda a chi la devo fare? A te, iniziamo da te. Perché siamo qua? Abbiamo organizzato insieme alla nostra planner D'Agostino una bella iniziativa con al centro della serata la pasta, il tema principale della sera. Pasta Quintaluna? Chiaramente pasta Quintaluna, una pasta di eccellenza. Abbiamo fatto una degustazione di tre primi utilizzando questa... Stasera faremo provare la pasta con la valenza dei tuoi chef. Invece a te chiedo, tu sei wedding planner? Sì. E qui che fai? Io qui sono la responsabile eventi. Abbiamo promosso questa serata perché corrisponde alla nostra politica aziendale che tende a privilegiare i prodotti del territorio, quindi a filiere a chilometro zero, filiere a corte a chilometro zero. Di conseguenza Quintaluna, essendo un prodotto lavorato artigianalmente nelle nostre zone, si coniuga quindi con la nostra filosofia aziendale. E io qui ho curato l'evento e spero che vi scuota il successo. Sicuramente perché io so che stasera è andato tutto esaurito, ripetete domani. Ripetiamo domani, così tutti avranno la possibilità di assaggiare i piatti proposti secondo la selezione dei nostri chef, grazie anche alla collaborazione di Quintaluna. Ringraziamo anche l'azienda Vinicola e in modo particolare poi un nostro pensiero, un nostro saluto va al regista di questa iniziativa a cui mandiamo appunto i nostri più fervi di saluti. Ok, ma qui sei aperto tutto l'anno, è un casale San Pietro c'è? Il casale San Pietro è un relais di campagna dove c'è un'accoglienza di eccellenza, si privilegia le serate, le feste, le iniziative di eventi. Con la Wendy Planner anche i matrimoni? Certamente, i matrimoni seguiamo anche con la Planner eventi più piccoli come le comunioni, i battesimi, chiaramente ci sono anche delle camere, otto camere matrimoniali dove sono delle camere di cortesia dove è possibile chiaramente soggiornare, nel caso si voglia restare dopo un evento particolare, una serata trascorsa e magari si fa tardi c'è la possibilità di restare. Piero Casale San Pietro, dove ci troviamo però? Ci troviamo a Giffoni 6 Casali, l'iniziativa di Giffoni 6 Casali e questa è la zona proprio di Cuba San Pietro.